Buongiorno a tutti e benvenuti amicinari per l'incidenza di Pistone della Corte Mamera, in particolare di un'Unione. Adesso si scelterà il terzo posto tra un piacere alla scuola e un piacere alla scuola. Con il numero sei, Cassarichia. Con il numero cinque, Don Chiema. Con il numero quundici, Don Chiema. Con il numero quundici, Pagone e Pagletta. Con il numero sette, Don Chiema. Con il numero quundici, Pagletta e Pagletta. Con il numero quundici, Don Chiema. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti